che cosa facciamo oggi? Oggi prendiamo in esame la vostra progettazione, la mettiamo a punto in modo che tra questa questa sessione e la prossima voi possiate registrare il podcast, proprio registrarlo e quindi nella seconda parte di questo seminario ci occuperemo proprio della registrazione. Vedremo anche qualche microfono qualche microfono e vi darò delle indicazioni per registrare il podcast attraverso due applicazioni fondamentalmente. Una è Da Vinci da usare attraverso il computer desktop pc o mac e l'altra sarà Riverside FM che è un'applicazione notevole per il podcasting online molto easy facile da usare. brevemente vediamo chi è qua trova il tuo libro, viaggia come tra le pagine, c'è, siamo presenti qui però l'abbiamo modificata, ne avevamo già parlato l'altra volta già parlato, perfetto poi qui invece connessioni profonde Claudia un podcast che mira a nutrire la consapevolezza, la comprensione, la crescita personale nelle relazioni umane esploriamo le relazioni, talk show, notizie o education? esploriamo le relazioni ma education lo vediamo, sai education è più scolastico, più didattico, no? Ti insegno proprio a a fare qualcosa, ti insegno così qui invece trattandosi di relazioni umane e un'esplorazione di relazioni umane è molto che chiudiamo qua, disattiva l'audio ecco trattandosi di relazioni umane è più un podcast di indagine aperto, sai non penso che si possa insegnare a tenere delle relazioni umane, no? sennò diventa un podcast più sull'educazione ecco, più che altro direi più di osservazione di analisi, no? Cosa dici? Sì, è molto indecisa all'inizio perché volevo mettere insieme tutti i tipi di relazioni quindi quelli che si realizzano a scuola che si realizzano fuori e quindi non avevo bene idee chiare, quindi ho messo dentro anche quello perché potrebbe essere anche un modo per traire di te, per insegnare che tipo di relazione ci deve essere tra certo, tra l'altro con questo tu puoi parlare anche, non so, anche di libri, di racconti, film tutto quello che vuoi, vita di personaggi puoi prendere spunto da quello che ti pare allora il talk show lo vedo male lo vedo male perché il talk show prevede sempre la presenza di più persone in trasmissione, telefonate da casa dibattiti, discussioni, intervento del pubblico queste cose qua education non lo vedo perché non è istruttivo cioè non è che tu insegni a stabilire una buona relazione dai degli spunti per quindi quindi, 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 quindi news ho provato poi anche a scrivere come la famosa prima puntata e seconda puntata perfetto, allora adesso la vediamo la vediamo, la vediamo e poi magari ci viene un'idea però può essere proprio un podcast narrativo ah ok o di indagine tipo true crime ma senza il crime ok sì, forse true crime senza il crime poi Maria, Marina Luzzi non so se c'è l'arte del racconto spiegare i segreti del racconto breve spiegare i segreti del racconto breve talk show no per quel motivo lì a meno che tu non voglia non voglia avere più partecipanti in trasmissione education no perché education è molto istruttivo anche qui l'arte del racconto sai per quanto tu possa stabilire che che ne so nella visione aristotelica due terzi inizia la suspense finale c'è però alla fine non è che puoi prendere il pacchetto e applicarlo così ci sono tante metodologie eccetera quindi anche lì la vedo non so l'arte del racconto anche questo potrebbe essere più un true crime senza il crime cioè un podcast di indagine di analisi poi qui invece contro le donne e donne contro la condizione di venire in letteratura questo è un tema molto specifico film degli autori classici no notizie no story sì abbiamo messo anche un format story sì giusto allora sarà quello story certamente certo un format tipicamente narrativo direi eh donne contro la voce sarà da mento in un altro episodio giro brevi testi ottimo benissimo compriamo se sono di un musicale bene perfetto chissà se c'è qua grazia sì ci sono sempre io ah perfetto ricordami quando facciamo Da Vinci poi ricordami delle citazioni come fare per le citazioni perfetto sì poi Nando una tavola da mare wow Nando grande Nando scoprire le coste campane con il soup cos'è il soup? ecco questo è bello il problema era questo che se mi devo attenere all'indicazione della passione mi chiedevo mentre però vado a scrivere le puntate ma come faccio a rendere interessante per chiunque una cosa che dovrei ecco spiegare perché questo sap che in realtà la tavola quella là che si guida con la pagaia stando in piedi lo stand standing up paddle quella è una sigla americana ah ho capito vedi perciò una tavola da mare e si chiamava l'idea della tavola il problema è come ah vedi no no era sulla tavola e quindi ho con la tavola da scoprire le coste campane con la tavola da sap hai capito perché fantastico in realtà è una cosa molto dignitia certo interessante ma non sapevo pure io l'altra intratica come faccio guarda guarda che i podcast più sono di nicchia più sono ascoltati interessanti tv generalista podcast di nicchia tv generalista radio palinsesto podcast di nicchia di nicchia nel senso che più l'argomento è specifico è più eseguito intercetterò tutti i supponenti della rete i supponenti allora qual era il tuo problema no no appunto capire se questa passione fosse traducibile in un podcast che ha qualche senso beh sì perché puoi parlare di tante cose puoi parlare sia della tecnica delle attrezzature delle modalità delle scelte turistiche dei luoghi delle persone che incontri cioè di tutto puoi parlare infatti c'è scritto qualcosa del genere sì le mie scorsi è breve testimonianze ah ottimo breve testimonianze di altre persone allora per le testimonianze di altre persone quando parliamo di microfoni ttttt stavo pensando dove l'ho messo tieni conto che a me serve un microfono impermeabile quindi ti do una bella sfida sì ma più che altro c'era una cosa che un oggetto che non so se ho prestato regalato ce l'ho ancora boh vediamo lo cerco poi casomai facciamo una sosta breve poi 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 letture per bambini Serena vedremo i migliori libri per bambini sei dieci anni da leggere in classe oh mi piace questo il migliore una cosa decisa i migliori libri per bambini perfetto mi piace questo stile americano chi è Serena? non c'è? non si sa sì sì ci sono ma sono sul treno ah sei sul treno Serena? sì sto andando a didacta sì bene allora in questo podcast vedremo i migliori libri per bello questo mi piace un sacco affermare così in modo deciso i migliori libri per basta fine ottimo sì sì poi vorrei che iniziassi e finisse sempre allo stesso modo va bene musica no education neanche quali libri leggere ah quali libri da leggere a scuola quali è un news questo è un news però sofisticato è un news di contenuto non è un news è un news un news un news di spessore però a meno che tu proprio non leggi anche delle parti prendi un libro ne leggi delle parti di commenti eccetera quindi in questo caso fai delle recensioni dei commenti e quindi è un podcast di è un podcast di è una storia perché questi libri hanno a che fare con delle storie sai dipende molto dal taglio che tu che tu dai alla cosa bisogna rifletterci e poi capire se sono più consigli di lettura o sono più analisi e commenti ecco allora se sono più consigli di lettura allora è più education più consigli pensavo sì più consigli allora direi più education più education allora ti consiglio è tra news e education insomma una cosa del genere va bene perfetto et voilà poi vediamo invece il mio podcast linee di progetto parte seconda qui vedete che ho aggiunto anche il link alle vostre risposte qua poi alla scoperta dei segreti nascosti viaggio nel mondo del mistero raccontare storie avvincenti crime il podcast sì indagine o sospanse sì avrà un'introduzione all'inizio alla fine degli episodi per dare correnza e familiarità agli ascoltatori l'introduzione includerà una breve presentazione del podcast del presentatore anticipare l'argomento dell'episodio sì attenzione non tirarla troppo per le lunghe qua perché poi l'ascoltatore specialmente chi è fidelizzato che è fidelizzato poi si stufa ad ascoltare sempre quindi un intro veloce performante chi è qui non sappiamo comunque un intro veloce performante che porti subito all'inizio del podcast della trasmissione l'uscita sarà un ringraziamento un invito a seguire a condividere il podcast certo un anteprima questa è anche una buona idea però tieni conto che un anteprima dell'episodio successivo di solito ci richiede tempo perché devi già aver programmato l'episodio successivo magari registrato qualcosa quindi poi diventa un lavoro quindi sempre tenere conto anche della quantità di lavoro che richiede la creazione di podcast e di trasmissioni via via sempre più complesse e articolate la musica si collegherà la tomesodio del post certo poi per la musica sapete che vi ho dato delle indicazioni perché la musica è coperta da diritti poi correre senza un perché bene correre senza un perché strategia per una corsa divertente motivare le persone a scoprire la bellezza della corsa da soli o in gruppo perfetto questo è chiaramente education prevede un intro un altro sempre uguali per tutte le puntate tutti gli episodi va bene però poi non si dice molto altro di questo podcast per esempio sarebbe interessante che una parte di questo podcast e questo vale anche per Ferdinando una parte di questo podcast fosse registrata durante il viaggio quindi correndo col fiatone oppure nel mare con le onde eccetera poi in altra parte no perché la trasmissione deve essere pulita e l'ascoltatore la deve ascoltare se no diventa problematico e poi si è costretti a lavorare alla pulizia della registrazione che diventa molto complesso molto lungo e poi passa la voglia di creare le trasmissioni però degli inserti gli inserti sì magari l'inizio l'inizio che si è lì che corre si introduce il podcast i primi due minuti sono durante la corsa durante il viaggio in mare eccetera eccetera così diventa particolarmente stimolante l'arte di dimorare non so di chi sia quindi siti e costruzioni stupefacenti wow costruzioni straordinarie a me piacciono proprio queste straordinarie stupefacenti il migliore i dieci più performanti così hanno reso dolci i sogni degli uomini il nostro viaggio ci porterà la scoperta dei grandi siti reali del barocco te centrato sul barocco ok centrato sul barocco quindi molto settoriale arte format arte una base musicale di avvio e chiusura un'altra che faccio sottofondo musica la voce narrante va bene però questo d'accordo però il cuore della trasmissione come è realizzata sei tu che la che la scrivi la reciti improvvisi pensi fare delle interviste si registra durante durante visite in determinati palazzi quindi mentre sei all'interno parli sono tutte cose a stabilire guarda dove ti porto storie emozionali per viaggiatori lenti ah viaggiatori lenti forte scavalcare qui non c'è neanche uno spazio come è fatto a scrivere così scavalcare il cancello della vita quotidiana con i suoi ritmi è un'azione necessaria per riscoprire prospettive inedite in modalità in modalità lenta lasciandoci guidare dei nostri sensi molto bello però io ho qualche spazio ogni tanto lo metterei e talk show notizie questo quindi è il concetto viaggiatori lenti questo è un podcast di tantantanta si è un podcast storie emozionali per viaggiatori lenti si è un di storie non storie sono storie è un podcast narrativo avrò un breve intro musicale che si ripeterà in chiusura prevedo di inserire alcuni momenti narrativi alcuni sottofondi che diano più emozioni più emozioni al talk a talk dicevi perché penso una base musicale perché talk la voce sarà la mia ma non riesco di inserire un'altra voce allora talk prevede necessariamente del il format talk è il format della partecipazione di altri alla trasmissione in cui le voci si accavallano poi ci sono dei telefonati interventi discussioni eccetera c'è il talk è questo c'è c'è un film bellissimo bellissimo sul sul format talk delle radio che si intitola talk radio e di e regista niente di meno che Oliver Stone è un gran film se lo trovate lo dovete vedere è la storia di Barry Samplein che è un radioconduttore di questa trasmissione talk e partecipano alla sua trasmissione persone incredibili ebrei nazisti tossicodipendenti poliziotti cioè tutti tutti uniti in questa community inesistente nei fatti perché tutti chiamano da posti diversi di una determinata regione però perché la trasmissione è locale e Barry Samplein è il centro il catalizzatore di questa community di personaggi e quindi una trasmissione ricca di sentimenti di grande umanità che poi avrà le sue storie dietro una gran bella storia veramente una gran bella storia talk radio di Oliver Stone se lo volete segnare questo è un consiglio un gran consiglio proprio poi why on basta ho visto è su Prime ah da vedere vai da vedere da vedere da vedere assolutamente ve lo do come compito da vedere entro la volta prossima da vedere come al solito probabilmente sono Lorena Trebbiani probabilmente come al solito punto croce non è il massimo di me cioè io dimentico le cose molto spesso dimentico di fermarle quindi va bene no no ma sono io che magari non ho inserito il no no ma non è c'era mi sembra comunque la voce mail e mi sembra di averla compilata ma va beh molto probabilità non l'ho fatto cioè ho pensato di farlo ma non l'ho fatto quindi non no ma manca semplicemente la colonna con le mail degli autori sì appunto sì ma probabilmente è quello che non non so dove sia finita ma comunque c'era vabbè no ma non c'era la voce per inserire la mail ah non c'era ah ok per quello non compare comunque adesso le riconosciamo noi ma sì certo comunque adesso ha cambiato ordinamento per cui dove sei finita sei finita ah punto cruci eccola qua tac voilà allora senti no va bene aspetta che chiudo un po' così dunque no allora intanto non devi inserire tutte queste spiegazioni benvenute presentazione show breve focus di me eccetera era naturalmente devi proprio devi proprio inserire il testo della trasmissione lo rifaccio c'è sì no c'è il testo però con l'aggiunta di queste cose qua le togli tutte non serve ah ok va bene era solo un mio modo per probabilmente ho messo tutti gli appunti e il testo insieme come al solito il mio cervello da crescetto impazzito da insegnante da insegnante da insegnante perché perché l'insegnante deve sempre giustificare quello che fa il che tra l'altro è neanche vero perché nessuno glielo chiede è solo una burocrazia ma veramente nessuno glielo chiede proprio un mio modus operandi insomma va bene ma questo poi servirà anche per te perché poi quando leggerai userai la traccia sarà più semplice perché sennò poi perché registrare la ritorno subito sì vabbè comunque lo farai adesso non è un problema tanto l'importante è che per la prossima volta tu arrivi con la registrazione benissimo proprio il file registrato e ti volevo dire volevo dire questo che la registrazione della trasmissione comporta un grado molto alto di tensione quindi bisogna fare pulizia intorno proprio grande pulizia tenere solo il testo la traccia anche una bella scrivania vuota insomma non essere distratti concentrarsi perché è complicato sembra semplice ma poi non piace la propria boccia non piace come è stata registrata una cosa un'altra si rifà eccetera eccetera quindi ecco il motivo per cui ti dicevo no? di avere un testo pulito senza commenti beh mi vuoi provocare un attacco di panico insomma no te lo fai già da te secondo me io voglio cercare di io adoro vivere nel caos per com'è l'ordine non è delle mie delle mie cordez allora senti ospite speciale opzionale sì opzionale tieni conto che l'ospite è complicato da da avere un ospite in trasmissione quindi se ce l'hai e pensi che sia utile riesci a registrare con un ospite benissimo sarà un'esperienza interessante per tutti ascoltarti però è difficile perché devi organizzarti sapere chi viene cosa deve dire dovete registrare in due insomma non è una cosa semplice però se tu vuoi affrontare questa sfida per noi va benissimo dunque il tono del podcast era amichevole informale perfetto come una conversazione tra appassionati giusto una trasmissione rilassata accogliente va bene benvenuti a filo dopo filo ho dedicato alla mia passione per il punto croce sono e oggi vi racconterò come ho scoperto questo meraviglioso mondo e come ha cambiato la mia vita ricordo ancora il giorno in cui ho iniziato il mio primo progetto di punto croce è molto bello questo venirebbe continuare c'è il testo qua sì questa era la mia bozza di lavoro perché mi serviva ripeto per dare ordine al mio criceto impazzito allora a differenza di qualcun altro che poi vedremo il tuo è un linguaggio molto parlato quindi molto adatto al podcasting non tutti sono così quindi bisogna lavorarci un po' su questo potrei parlare no giusto potrei parlare di come ho scoperto il punto croce magari tramite un membro della famiglia o un amico e di come questa attività mi abbia catturato fin da subito è molto conversazionale questa questa frase è molto da linguaggio parlato e non scritto infatti bisogna scrivere se la scrivete dovete avere l'accortezza di orientarvi a un cioè come dire voi dovete avere in mente di parlare a qualcuno proprio non di scrivere ma proprio di parlare a qualcuno a qualcuno a casa vostra e proprio state conversando con lui quindi questo è il modo di scrivere un podcast perché il punto croce le domande vanno benissimo le domande sono importanti domande rispondi altrimenti diventa tutta una cosa continuativa questa sezione infine tra cui l'episodio risumendo i punti chiavi questo è molto buono molto 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 buono allora tu qui ti stai rivolgendo a noi a me va bene sì sotto se vedi ho messo ho scritto proprio come vorrei che cioè come vorrei come l'avevo pensata insomma è proprio il testo sì questo è proprio il testo però guarda che se tu proprio dici in trasmissione infine potrei concludere l'episodio riassumendo i punti chiave e ringraziando gli ascoltatori e lo fai e lo fai questa è una frase molto colloquiale molto intima molto da rapporto diretto con chi ascolta molto da amico col quale stai passeggiando per strada e stai raccontando qualcosa io questo genere di frasi che tu hai scritto per spiegare il podcast in realtà io le utilizzerei proprio nella trasmissione anziché dire dire siamo arrivati alla fine della trasmissione ecco di che cosa abbiamo parlato abbiamo parlato di questo bla 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 se invece dici bene allora a questo punto potrei concludere l'episodio riassumendo i punti chiave sembra che tu stia improvvisando cosa che non è vera perché il testo è scritto ma la sensazione di improvvisare crea una intimità dell'ascolto maggiore col tuo pubblico ok capito quindi vi dirò un po' tu e poi le anticipazioni per il prossimo di cui parleremo come ecco se prima parlavamo di trailer basta dire basta dire questo come scegliere i materiali giusti per il punto croce perfetto non c'è bisogno di inserire dei brani di una trasmissione che dovrà uscire solo anticipare il titolo poi musica ok allora lavora su questo ripulire il testo lasciare solo il testo e introdurre questi elementi che ti vengono bene di improvvisazione poi abbiamo quindi questo è l'episodio di intrattenimento poi qui abbiamo invece episodio narrativo la tua storia personale con il punto croce come è nata la tua passione ok incidenti e sfide va bene mi interessava questo è iniziata quando avevo 6-7 anni quindi è una storia è una storia che è nata quando eri piccolina proprio primi rudimenti del punto croce chi te l'ha insegnato seguivi lo schema coltivo questa passione eccetera questa è molto buona questa storia perché parla di te allora l'idea qual è che potresti creare un format particolare perché naturalmente il format che cos'è il format è quella struttura quel modello che caratterizza tutte tutti gli episodi di un podcast quindi se un podcast è true crime appunto sarà un'indagine criminale tutti gli episodi sono un'indagine criminale se è di news saranno news tutti gli episodi sono news tu invece potresti creare un podcast misto un podcast un podcast di istruzioni e allo stesso tempo un podcast di narrazioni di narrazioni personali dove ogni non so due o tre episodi inserisci una tua storia personale quella volta che quella volta che hai imparato a fare questo quella volta che quella volta che ti hai proposto un lavoro e che ne so la persona a cui l'hai consegnato te l'ha sfilato tutto e ti ha detto che ero un incapace e ti ha costretto a rivedere quello che tu avevi prodotto per dire no? alternando potrebbe essere veramente interessante questa cosa poi adesso allora qui abbiamo fatto dove sei dunque perché mi ha mescolato tutto sta roba qua volevo colorare eccolo qua tac a posto poi chi c'è qua ne ho tanti ma non credo che ci siano tutti siano tutti presenti quindi ditemi voi per esempio non so allora parto io da inizio vediamo allora perché voglio raccontare dell'Italia per esempio analizzando il lavoro degli amici sì mi chiarisce anche un po' meglio la differenza tra che ho avuto difficoltà tra intrattenimento ed episodio narrativo episodio narrativo appunto la storia personale questo mi era più chiaro però l'intrattenimento l'intrattenimento può essere anche l'incrocio di più storie sono dei fatti degli eventi narrazioni che riguardano magari diverse persone diverse situazioni episodio leggero che non ha lo scopo di tenere il pubblico incollato per sapere come va a finire una vicenda una storia come si sviluppa nel tempo non c'è magari uno spazio temporale è caratterizzato dall'essere una trasmissione che si ascolta soprattutto anche mentre si fanno altre cose e quindi non fornisce delle informazioni che richiedono un'attenzione completa come per esempio non so un podcast di istruzione che devi magari tornare indietro per ascoltare capire bene come stanno le cose eccetera quindi leggero più più orientato appunto a trascorrere il tempo attraverso l'ascolto la narrazione invece ti richiede proprio un'attenzione un'attenzione c'è una storia che ha un inizio una conclusione la conclusione può essere all'interno della trasmissione o rimandata alle trasmissioni successive ma il focus è sempre quella storia con quei personaggi quelle vicende che devono poi risolversi in qualche modo il podcast narrativo non è un podcast talk il format narrativo non è talk cioè non è prevista la partecipazione di altre persone altrimenti diventa più un'inchiesta quindi c'è non so inizia con un racconto che cosa è successo il 19 marzo del 2024 alle ore 20 eccetera quando Giovanni è entrato in casa ha fatto vedere poi si discute vabbè cioè si interrompe la narrazione entra al format talk quindi globalmente non è più un format narrativo è un format di inchiesta è un format di quel genere e il format talk invece può essere un format di intrattenimento normalmente i format talk sono di intrattenimento tranne però nel caso in cui trattino di argomenti di un certo spessore di una certa importanza per cui sono di intrattenimento fino a un certo punto per esempio talk radio appunto di Oliver Stone è un format talk ma non è esattamente di intrattenimento perché le persone parlano dei loro problemi dei loro drammi in questa trasmissione per cui non ascolta con leggerezza non ascolta per passare il tempo ascolta perché sono in ballo dei sentimenti anche importanti dei casi umani quindi è anche quello un format che richiede una particolare attenzione queste sono diciamo le due le due grosse differenze adesso non è che voi siete diciamo rimasti esattamente all'interno di questi form ma non importa perché tanto discutendo parlando vediamo se le trasmisse alexa taci scusami invece sono una rita scusa ho spento un intruso un altro intruso vediamo chi è no perfetto ok allora dimmi sì volevo sapere nel momento in cui invece abbiamo magari indicato o volessimo farlo cioè un procedimento misto con l'inserimento quando diciamo musica istruzione oppure narrazione si prevedono degli intermezzi musicali o uno sfondo musicale o annunciare il testo con la musica come come insomma guarda il sfondo musicale all'interno di trasmissioni podcast è normalmente da escludere per diversi motivi intanto perché è complicato da un punto di vista della proprio costruzione tecnica del podcast bisogna creare un'altra traccia audio bisogna regolare i livelli in modo che siano mutevoli durante la trasmissione rispetto al parlato bisogna trovare la traccia giusta che sia libera da diritti oppure li compri insomma è un lavoro ma non solo da un punto di vista tecnico ma tranne che in determinati casi per esempio un classico podcast narrativo con la sua suspense che può essere accentuata con una traccia musicale particolare in un determinato punto oppure addirittura dei rumori il fischio di una nave un autobus l'automobile il verso di un animale eccetera che però diventa complesso realizzare perché si tratta di creare addirittura un paesaggio sonoro ci sono i sound designer per questo e d'altra parte pensa a un audiolibro gli audiolibri sono letti senza sottofondi musicali normalmente senza la costruzione di paesaggi sonori e la narrazione funziona molto bene al limite c'è una piccola musichetta quando si passa da un capitolo all'altro in una trasmissione talk con più partecipanti si passa da un argomento all'altro eccetera possono esserci degli stacchi possono esserci anche degli stacchi musicali anche in una trasmissione news possono esserci degli stacchi musicali ma è un diventa un format molto radiofonico molto radiofonico molto diciamo più complicato da realizzare di altri da un punto di vista tecnico e alla fine non adeguato a un podcast nel senso che si sa che un podcast non è una radio quindi non ci si aspetta dal podcasting lo stesso concept di una radio con quattro persone in sala il direttore una sala di registrazione gli stacchi e tutto il resto dunque e quindi le persone accettano molto di più anche delle narrazioni semplici con un solo oratore la sua voce e senza bisogno di nient'altro in sostanza magari una buona sigla ecco una buona sigla una buona chiusura questo sì se voi ascoltate non so se lo conoscete l'ho scritto l'ho segnalato da qualche parte l'america è un paese da svaliggiare l'america è un paese da svaliggiare è un podcast che è costruito in questo modo ecco l'america è un paese da svaliggiare per esempio questo sentite l'intro l'america è un paese da svaliggiare cronache di un gangster a new york tre sacchetti di diamanti un vecchio una donna il gangster ha concluso la prima parte di un lavoro e ora aspetta un taxi per l'aeroporto ok questa pausa questa è l'introduzione di ogni racconto che prevede una costruzione limitata quindi per pochi secondi di un un paesaggio sonoro un vero e proprio paesaggio sonoro abbastanza complesso con una voce fuori campo di un professionista che presenta il podcast e legge il titolo di ciascuna trasmissione poi però questo finisce e c'è solo la voce narrante mi conoscete ma non sapete quello che devo fare ho concluso un lavoro iniziato a Francoforte e ora sono qui nel mio paese a Milano sto aspettando un taxi questo taxi mi porterà all'aeroporto dove prenderò un volo per New York a New York incontrerò un vecchio troverò una donna e avrò con me tre sacchetti di diamanti belli chiari luminosi uno spettacolo di ancestrali albe boreali per far sognare i vostri occhi ma non abbiamo il tempo di parlare dei diamanti eccetera eccetera la musica sotto avete notato che varia scende di livello quando sale la voce questa operazione si chiama duking con da vinci si fa molto facilmente tra l'altro poi ve la insegno non questa volta ma l'ultima perché come dire è un effetto aggiuntivo prima vediamo come funziona l'impianto e poi quindi in questo ducing è inteso d-u-c-k-a non ducking cioè non come duck d-u-c-k ah c-k è come duck 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 d-u-c-k si ducking si d-u-c-k-k si dice ducking va bene d-u-c-k sì ducking perfetto questo questo tuo podcast lo inserisci nel genere mysteries mystery oppure nel genere story story narrativo 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 non true crime perché non hai una storia vera no però un genere narrativo un classico genere narrativo in sette puntate questo è un podcast non infinito è un podcast di sette puntate ogni puntata viene erogata alle sette della domenica mattina ogni domenica mattina per sette o otto perché poi sarà un episodio conclusivo che spiega come il podcast è stato creato e alla fine cioè ogni domenica alle ore sette viene pubblicata una trasmissione una puntata va bene grazie mille allora basta anche solo una intro parziale di un certo livello per tenere su tutta la trasmissione specialmente se poi dura pochi minuti qui solo un paio di puntate superano i 6-7 minuti quindi sono storie molto brevi poi dunque voglio raccontare l'Italia conosco tante persone da te me in france conosciuto persone di tutte le età fatti innamorare dell'Italia perfetto visitare Palermo l'avevo visto un giorno decise di parlare i miei genitori mi dissero che erano felici di realizzare il mio sogno e iniziarono a pianificare il viaggio no questo però non c'entra niente aspettate un attimo questa è roba vecchia ordine dall'A alla Z no eccolo qua 24 mi ha fatto un pasticcio mi ha messo insieme un sacco di roba così 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 eccolo qua allora andiamo avanti andiamo avanti per esempio qua foglio bianco pulito una quattro una stampante sì mondo cantava vasco d'accordo allora cosa avevo da dire su questo qui allora seguono domande su come scrive l'ascoltatore e breve spiegazione di massima grande o piccolo leggero calcato stretto largo dritto inclinato quindi questo proprio sulla tecnica della scrittura le domande bisogna capire come vengono introdotte le domande in una trasmissione le leggi le simuli c'è qualcuno per esempio che registra queste con delle voci diverse dalla tua però non può essere una persona sola che pone tutte queste domande quindi diventa complicato poter pensare di avere più persone che ognuno delle quali registra una domanda alla quale rispondere quindi è più semplice immaginare che ne so che ricevi la posta ricevi le mail e rispondi a delle mail allora si simula una cosa di questo genere passiamo alla lettura della posta del giorno ed ecco una formula tipicamente di intrattenimento passiamo alla lettura delle mail del giorno e rispondiamo a queste domande può essere molto interessante non so se è presente l'autrice di questo podcast forse no però abbiamo scoperto una cosa utile sulle domande poi vediamo qui invece adoro i racconti brevi quelli che mi sorprendono che mi fulminano è presente perché siccome abbiamo parecchio da fare oggi io lasciarei perdere i testi di chi non c'è allora via poi titolo podcast connessioni profonde ci siamo? si ci sono ci sono ok allora connessioni profonde da sola benissimo come è nata la mia passione per relazione professionale così via va bene come fare per riconoscersi ci troviamo in una relazione che per noi è nutriente quindi ne abbiamo parlato prima giusto? nell'altro step e questo è lo sviluppo della tua trasmissione dunque come fare qui ecco allora tu poni un sacco di domande qua ci sono tanti segni per tenere d'occhio quello che conta e poi la comunicazione avendo con l'altra persona è aperta e onesta ci bisogna poter dire tutto i nostri desideri ma che cosa fai con queste domande non l'ho capito io perché la mia idea era prima di l'idea di portare in ogni puntata una piccola storia sulla quale poi magari chi l'ascolta riflette sul suo vissuto però prima della storia c'è una specie di introduzione per una piccola introduzione per dire quale sarà la tematica della trasmissione quindi nella prima perché è nata la mia passione e poi spiego due cose nella seconda invece delle relazioni nutrienti e parlo invece di una relazione tra due sorelle che non è assolutamente nutriente sì questo è il secondo episodio e va bene questo qui però dovresti raccontare proprio una storia la storia di quelle due sorelle sì però mi sembrava cioè siccome io penso che dovrebbe durare almeno cinque minuti sì ok in cinque minuti riesco tranquillamente a leggere forse sei sette non lo so la prima parte anche la seconda cioè mi sembrava brutto raccontare solo la storia e non dire nulla prima non so scusa non ho capito ti riferisci al secondo episodio ma in tutti e due c'è prima una parte aspetta dobbiamo parlare di un episodio per volta perché sono due strutture diverse questa più orientata all'intrattenimento un po' più easy più leggera anche se tutti i vostri contenuti sono contenuti importanti significativi questa invece è narrativa quindi qui proprio racconti la storia delle due sorelle sì perché nella prima puntata vorrei l'idea era introduco che tipo di podcast saranno quindi sulle relazioni spiegando come è nata la mia passione mi sembrava di avere e quindi pongo degli interrogativi alle persone in modo che dopo nella puntata successiva raccontando la storia magari uno ci ha riflettuto su non so sì non lo so è una idea sì ho capito infatti avevo questo dubbio perché nel podcast non funziona questa cosa di porre delle domande e poi rispondere alla puntata successiva cioè non c'è un rapporto continuativo a meno che tu non alleghi al podcast un forum un gruppo magari un gruppo telegram quindi si continua a parlarne nel gruppo e poi sulla base della discussione che viene nel gruppo crei una trasmissione e quindi il gruppo alimenta poi la tua trasmissione il podcast di Laura Pigozzi di cui vi ho già parlato che è un influencer di cui seguo io alcuni aspetti della sua comunicazione funziona proprio in questo modo cioè lei attraversa i canali sociali Facebook Instagram soprattutto avvia delle discussioni con il pubblico inserisce dei post inserisce dei contenuti riceve delle risposte eccetera e da questa relazione nascono poi i temi delle sue trasmissioni però nelle sue trasmissioni lei che parla è lei che parla per 20-30 minuti normalmente su un tema che è un tema e lo affronta in un certo modo perché perché è il modo attraverso il quale è stato espresso nelle discussioni nei rapporti con i suoi follower sì probabilmente non mi era chiaro cosa non mi è ancora chiaro cosa vorrei fare però l'idea era sì di avere una cioè non solo di proporre qualche cosa ma di avere un pubblico cioè di avere i seguaci allora tu vuoi un pubblico perfetto questa è un'ottima cosa allora parliamo di questo come si fa intanto nel momento in cui pubblicate un podcast avete un pubblico questo è chiaro però il podcast non è un social voi non sapete chi vi segue no non lo sapete non lo sapete per avere un pubblico dovete abbinare al podcast un social un social o un sistema di messaggistica o una piattaforma per creare delle relazioni quindi abbiamo due sistemi diversi di fronte il primo è quello di utilizzare i canali di messaggistica whatsapp e telegram per esempio molti creano dei canali telegram quindi il podcast è appoggiato a un canale telegram se tu però hai un podcast e hai un canale telegram allora devi fare due cose in nella landing page di rss ti ricordi sì ce l'ho anzi guarda facciamo così prendiamo questo qui nella descrizione del podcast quindi là dove c'è la descrizione del podcast tu qui devi inserire una spiegazione sulla community questo podcast è legato a una community che si trova in telegram e instagram no stiamo parlando della messaggistica quindi whatsapp telegram eccetera si trova qui partecipa all'attività della community oppure questo podcast non è legato a una community di messaggistica ma a una a un social quindi aprirai in instagram aprirai il canale di l'america è un paese da svaliggiare per dire oppure in facebook apri un gruppo o quello che vuoi quello che ti piace c'è più tiktok che ne so e lì avviene il confronto con i tuoi follower quindi lì c'è ha senso che ponga delle domande solo se ci associo esatto se no diventa retorica diventa retorica perché o rispondi a queste domande oppure non avrai mai una risposta perché come fai indichi un telefono ti fai telefonare durante la trasmissione allora cosa dici dici che fai la diretta la puoi fare la diretta però quanti ti seguono no cioè perché prima di fare una diretta deve essere conosciuta altrimenti la gente non è che dice sì andiamo a sentire la diretta di di no quindi le domande le puoi porre solo in un contesto sociale ok va bene grazie capito bene no no grazie a te perché questa cosa per esempio ci ha dato l'opportunità di chiarire in parte che il podcast in quanto tale ha una relazione col pubblico ma il pubblico ma questa relazione con il pubblico non è una relazione strutturata è una relazione di ascolto è una relazione di consumo orientata al consumo un consumo buono non un consumo legato al marketing al business eccetera però è quindi una relazione di passaggio è una relazione transitoria non è una una relazione strutturata anche nel caso in cui l'ascoltatore sia un abitudinario poniamo che qua cento persone ascoltino tutte le domeniche alle sette si svegliano alle sei e mezza perché impazziscono per ascoltare l'America è un paese perfetto però io non so chi siano non abbiamo una relazione nessuno dice se gli è piaciuto o meno questo pod scrive un commento e così via perché non è il suo scopo non mi interessa neanche non c'è un social di riferimento tra l'altro l'ho fatto proprio per mostrare come si crea come si può creare un podcast diciamo di improvvisazione legato alla fotografia tra l'altro come si possono strutturare dei racconti cioè quindi mi serve essenzialmente nei corsi nelle masterclass eccetera eccetera quindi non mi interessa discutere col pubblico di questo podcast per dire ok connessioni profonde va bene poi chi si fa avanti o proseguiamo e poi vediamo se c'è qualcuno che è l'autore del testo che leggiamo testo intrattenimento cosa c'entrano gli antichi con noi ah questo è il nostro Marco perfetto Marco va bene tu avevi posto quella domanda che io non ho visto perché non mi è arrivata la segnalazione quindi ho risposto oggi e va bene io ho seguito l'ottica dell'ascoltatore insomma sì certo sì la tua è una trasmissione strutturata mi sono messo ieri ho cercato di appunto di strutturarla e ho notato che ho lavorato un po' sulle frasi ad effetto specie nella conclusione e poi mi piaceva mettere dentro sia nell'intrattenimento che nella narrazione all'inizio i riferimenti al classico insomma no sì perché perché in fondo è un modo per con brutto termine per sdoganare l'antico non c'è fare dei riferimenti certo poi questo per esempio questa è un'esperienza che oggi non esiste più sì non esiste più oggi siamo di fronte a un mondo multicanale sì mondo multicanale butto lì un inciso ma non voglio intrattenervi troppo su questi mondo multicanale significa che 20 anni fa ma anche 15 anni fa 12 anni fa per avere i contenuti uno studente si doveva rivolgere o all'insegnante o al libro di testo punto perché sì ci sono delle biblioteche però dei centri di ricerca insegnante di voi di testo oggi oggi cioè non solo tu hai accesso a informazioni disponibili in una moltiplicità incredibile di canali ma addirittura in diverse lingue in diversi paesi con diverse strutturazioni più o meno scientifiche eccetera cioè sei dentro un mondo nel quale o sviluppi il tuo senso critico la tua intelligenza o soccombi in mano a qualche manipolatore quindi e quindi cambia il ruolo dell'insegnante perché l'insegnante deve trasmettere quelle conoscenze quelle cose che sono alla portata di chiunque attraverso una ricerca di informazioni o deve fornire un'esperienza invece più profonda più vissuta particolare cioè deve offrire se stesso e la sua capacità e la sua intelligenza agli studenti questa è la questione cioè voglio dire in classe ti racconto la storia di dell'amicizia di Achille con Patroclo o iniziamo subito a discuterne o se ti leggo un testo lo approfondiamo un po' come fai tu no? o se le conte ma la storiellina te la cerchi tu eh quanti canti è divisa la divina commedia le caratteristiche cioè queste le vai a trovare tu andiamo scaviamo invece andiamo a vedere cosa c'è dietro perché il mio punto di vista il mio proprio punto di vista non di insegnante ma di Marco Bergamasco sulla base di queste fonti qual è il tuo quindi produrre queste esperienze è molto importante cioè capire dove la vita è cambiata l'esperienza è cambiata gli strumenti sono cambiati e quindi fornire delle proprio delle esperienze di delle informazioni delle storie proprio su questo volevo aggiungere che l'altra volta ho fatto tesoro della tua indicazione sulla leggerezza no? sulla differenza tra il visivo e l'ascolto sì non ci ho mai pensato cioè sul fatto che se tu parli alla radio cioè se tu sei un po' da sentendo non puoi scendere troppo nei particolari quindi devi necessariamente sfrondare e tagliare il discorso sì sull'efficacia intendo sull'efficacia della comunicazione che è differente nei podcast ecco questo certo certo perché più scendi nel dettaglio più restringi il target a specialisti che allora poi ascoltano ma si restringe anche il target delle persone ovviamente mentre il video è supportato da immagini quindi il livello di comprensione è più semplice da raggiungere la memorizzazione anche e poi lo devi guardare quindi devi stare fissi in un posto non puoi guidare e guardare anche se molti lo fanno cioè non puoi guardare guidare e vedere i filmati mentre guidi e ascolti certo Alberto la durata media dunque sui 7-8 minuti sì stare sotto i 10 sotto i 10 bene sì anche 5 minuti è una bella cosa meglio per tanti motivi perché è facile ascoltare perché ti abitui a concentrarti su una cosa altrimenti poi ne racconti troppe perché è più facile tecnicamente da realizzare perché crei una maggiore continuità perché puoi registrare con podcast alla settimana 6-5 minuti perché per registrare 5 minuti ti serve un'ora un'ora e un quarto metti un'ora e mezza alla settimana trascrivi la trasmissione buttarla giù registrarla pubblicarla e quindi un'attività che puoi fare ti prendi un pomeriggio al mese ne registri 4-5 e poi ne eroghi una settimana erogando in una settimana e uno breve che cosa fai? fai una comunicazione nei social attenzione che tutti i venerdì alle 4 di notte esce mio pa svegliatevi puntate la sveglia no e comunque è pulito c'è solo parlato ho capito bene solo parlato non ha senso bene non ha senso così bene grazie a meno che non c'è diciamo un leggero sottofondo come quello dell'America è un paese da svaligiare e allora con l'operazione di ducking si può si può manovrare facilmente però niente di più niente di più ma voi prendete a riferimento gli audiolibri gli audiolibri non hanno mai cioè è raro che abbiano audible non ce l'ha mai la RAI qualche volta lo ficca dentro ma perché? ma perché loro so è più radio che audiolibro no? quindi se mettono un po' di musica non sono contenti ma in realtà audible non inserisce mai la musica nella lettura di un audiolibro e questa resta la differenza sostanziale tra una trasmissione radiofonica e un podcast perché sì perché la trasmissione radiofonica allora i format sono gli stessi il podcast nasce dalla radiofonia sicuramente ma la radio è un palinsesto globale che è organizzato secondo proprio uno stile mediatico il podcast nasce invece come libertà di trasmissione mi faccio sentire sto ricevendo proprio adesso le registrazioni in lingua inglese allora questo è il trailer di un podcast che uscirà negli Stati Uniti this is a collection necessario e questo è questo è l'introduzione per il trailer questo è il primo racconto e va bene questo è molto pulito perché questo andrà su Audible così com'è la differenza invece nel podcast sarà che qui quindi quando legge il titolo sotto il titolo ci sarà la musichetta del trailer questa è l'unica differenza che distinguirà il podcast dalla lettura dell'audiolibro sarà la musichetta posta sotto ogni titolo sono 44 racconti che usciranno negli Stati Uniti sia in podcast che in audiolibro che qui sto curando appunto l'edizione scusami potrei fare un'avanzione pensare una question stavo pensando agli studenti noi adesso con te stiamo imparando la struttura ci stai rivelando un mondo ovviamente che non conoscevamo molto interessante però nel momento in cui per esempio volessimo richiedere agli alunni di fare un podcast loro non sono registrati sulla piattaforma RSS possono farlo da Spotify per esempio cioè come un audio no no ci si registra sulla piattaforma ah tantissimo sì ci si registra allora se il podcast lo fa la scuola la scuola compra la piattaforma ah ok così come compra tanti altri strumenti software eccetera compra la piattaforma costa poco all'anno adesso mi ricordo comunque costa una poca cifra se tu quello vuoi fare tu hai a disposizione la tua piattaforma RSS pubblichi i podcast dei tuoi studenti nel tuo podcast ah ho capito nell'RSS che hai aperto difficilmente raramente quasi mai lo studente crea un suo podcast lo fa quando abbiamo uno studente un gruppo di studenti talentuoso che non so è esperto di qualche cosa solitamente sai manga game cose di questo genere e decide di aprire per conto suo un podcast beh allora questo poi diventa vabbè quello è personale naturalmente poi tu gli potrai dare delle indicazioni guarda ho seguito un corso sai decidi il format però a far così lo potrai aiutare sicuramente però diventa poi una scelta sua va bene va bene volevo avere giusto un'indicazione ti ringrazio come sempre beh figurati